Allora, vediamo il primo commento. Abbastanza normale sto commento, è un vostro commento. Marco scrive, Giacobbo, il male assoluto. Non so, io non ho messo like a questo commento perché non sono proprio d'accordo. Cioè, il male assoluto potrebbe, assoluto, così detto proprio tra virgolette tra noi. Il male assoluto è quello che rappresenta Giacobbo. E cioè, l'idea che tu debba sottostare al dover appagare le fantasie del pubblico, di una certa fascia di pubblico. Però c'è Giacobbo di per sé, non lo so, farei una bella... Ho fatto una classifica dei noti disinformatori, no, nel canale YouTube, diversi mesi fa, agli inizi proprio di questo progetto. E Giacobbo sicuramente non è ai livelli di un mazzucco per danni fatti, per esempio. Ma c'è di peggio rispetto a Giacobbo. Quindi non direi che proprio il male assoluto. C'era un periodo in cui addirittura invitava almeno degli scienziati, o li invita ancora ogni tanto. C'era uno periodo, mi ricordo, in cui invitava quelli del Cicap anche. Quindi proprio Giacobbo... Non lo definirei proprio il male assoluto, ecco. Sono curioso anche di sapere la vostra, ecco. Io lo metterei proprio in fondo nella lista di quelli che fanno più danni, ecco. Poi ha dei limiti, per esempio io ricordo che avevo fatto uno speciale anche per ricordare le vittime del Batacan, mi pare. Non credo che sia un teorico del complotto su 11 settembre o cose del genere. Quindi proprio... è quel che rappresenta, magari, cioè... Quell'idea di televisione e il male assoluto. Quindi quel mischiare la fiction col doku a cazzo di cane, come si è visto, per esempio, nell'ultimo doku fiction su Cleopatra. Giacobbo insegnava nell'università in cui lavoro. Ero imbarazzatissimo ogni volta che lo vedevo passare dall'ufficio. Ma pensa a quelli dell'università di Pisa che ci avevano malanga. Questo è un commento che non ho ben capito. Allora, qui era... è uno di quei commenti che sono arrivati sotto la pubblicazione della live su Mazzucco e le sue ultime tesi sui finti allunaggi, no? Dove dice, ma se i russi non hanno detto niente è perché avevano paura che li prendevano in giro o cose del genere, no? Lì sono arrivati molti commenti. Cioè, come sapete, io pian piano, in differita le live, alcune non intere, alcune parti più interessanti delle live, le monto e le ricarico su YouTube periodicamente, no? E questo è uno di quelli. Forse c'è un orgoglio differente tra i popoli. Ci sono persone più scaltre e quelli più integerrime. Sì, questo era... Sì, era proprio il video dove rispondeva Mazzucco. Perché poi c'è il video dove risponde ai commenti dei fan di Mazzucco, no? E anche questo sarà la seconda parte della risposta ai fan di Mazzucco, ok? Non so se questo è il caso, se è il caso di Slimmy, o come si chiama. Però, allora, cose che non va di questo commento, secondo me. Che sembra molto la filosofia dello spirito dei popoli, insomma. Che piace molto anche al cosiddetto maestro di Putin. Dico, adesso non mi sovviene il nome. Comunque è un filosofo russo contemporaneo che pare abbia ispirato Putin. Cioè, questa idea che ogni popolo c'è il suo spirito, no? Credo che questo commento si riferisca al fatto che, appunto, il discorso di Mazzucco è che i russi non hanno detto niente per non essere presi in giro. Ma non ha senso, no? L'avevamo spiegato. Paolo Tutotroppo ha pubblicato un post recentemente dove, da un contributo più esteso, proprio da avvocato, dove fa vedere, lo vedremo, lo leggeremo dopo, perché ne ha anche taggato consigliando il video. Quindi lo ricambio volentieri, adesso leggendo poi il suo post su Facebook. Perché è proprio contraddittorio. Cioè, questo ragionamento veramente non ha nessun senso. Dugin, ok. Non so come collegare sto commento. Cioè, magari lo spirito dei russi è di essere coglioni, non credo. Cioè, non lo so. Cioè, il discorso dei russi omertosi, che non dicono che gli analogi sono falsi, non ha nessun senso. Poi lo vediamo meglio, perché Paolo Tutotroppo dà una spiegazione molto interessante, che a me è piaciuta. Ok, fammi capire. Le tue prove per confutare ciò che afferma Mazzucco, con documenti e testimonianze, sono semplicemente le cazzate che dice Paolo Attivissimo, che è stato demolito da Mazzucco in ogni sua spiegazione. Ok? Cioè, però, demolito, se è demolito con argomentazioni che abbiamo visto, come quella sui russi, a me viene da ridere. Cioè, la pena la provo io. Tra l'altro questa è la stessa persona che ha detto che io sarei invidioso di Mazzucco, perché non sono nessuno, una cosa del genere, no? Rendiamoci conto. E che devo dire? Cioè, smontato in che senso? Cioè, non è che se tu rispondi a caso per me la cipolla hai vinto il quiz. Non funziona così. Devi dare la risposta giusta. Ah, sì, sì, ho visto che avete risposto. Che ogni tanto intervenite. Io vi leggo sempre. Per ora, qualsiasi cazzate, è una prova del complotto. Gunter. Al massimo posso essere invidioso dei suoi soldi. Effettivamente, vendendo documentari, di soldi ne ha fatti. Però, soldi fatti in quel modo, anche no. Marcello scrive, quando sperimenterai un dentista? Ora, quando ho intervistato l'ultima volta Paolo Attivissimo, era l'anno scorso in pratica, così l'anno scorso. Me lo ricordo molto bene, perché erano quattro giorni che avevo smesso di fumare. Infatti, lo dico anche là. Cioè, avevo proprio i denti da fumatore, da tabagista. No? Ancora c'è da fare, sicuramente sperimentare un dentista, ma sicuramente lo smalto è migliorato moltissimo rispetto a un anno fa. Un anno senza fumare, devo dire che non mi sono affatto pentito di questa scelta. E ne approfitto per ricordare insomma tutti i ragazzi, le ragazze, non fumate, non cominciate a fumare. Ecco, perché vi rovinate anche uno dei problemi non è solo che rovinate i polmoni, ma vi rovinate anche lo smalto dei denti. Ok? Grande, anche io ho smesso. Anche tu eri fumatore, Gunta. Cioè, è veramente una scelta di merda fumare anche per questi motivi. Ma in tutto questo, cioè, ma che cazzo c'entra? Cioè, io stavo, non stavo parlando di smalto dei denti assieme a Polo Attivissimo. Ok? Stavamo sempre rispondendo al loro guru Mazzucco riguardo al negazionismo degli allunaggi sempre. Ok? Parlo anche di Easyway, sì, nell'altro, sì, avevo fatto anche una live apposta dove spiegavo, insomma, che avevo smesso di fumare. Adesso ce n'ho neanche la dipendenza psicologica, per dire. Quindi, questo è uno, ma poi, non so se è la stessa persona o se fanno parte della stessa cordata, ma c'è un altro commento che è praticamente collegato a questo. Da qualche parte avrò detto che è imbarazzante, come dà le spiegazioni Mazzucco, no, come pensa di demolire Mazzucco, gli argomenti che fa. E, Santonuccito mi scrive, la cosa più imbarazzante sono i denti. Guardate questo commento, è molto interessante. Ok? Poi vi dico perché. La cosa più imbarazzante sono i denti. Mi dispiace. È dura, ma è la realtà. Buonanotte. Ma che c'entra? non è che... Ma che cazzo... Ma che cazzo c'entra? Cioè, non lo so, ti sei slogato un po', mi dispiace, è dura, ma è la realtà. Beh, cosa cazzo c'entra con l'argomento dei finti allunaggi? Cosa cazzo c'entra? Comunque, ribadisco, ricordo, ragazzi e ragazze, non fumate. Se avete già fumato, smettete di fumare, ma soprattutto smettetela di fare i cunilingus alle madri di Marco e di Santonuccito, perché poi vi diventano i denti gialli. Va bene? Questo l'incornicio e ci facciamo lo short domani, ok? Allora, perché interessante? Ok, fuori dallo short di domani. Beppe Turbo, benvenuto nei poteri forti. Allora, però come dicevo, l'elettronica, comunque, il Sam, grazie per i finanziamenti a Big Pharma, la lobby dei farmaci e di Bill Gates ti ringraziano. grazie, grazie, grazie. Comunque, il bello di questo commento è che appunto lui dice mi dispiace, è dura, ma è la realtà, no? Questo rispiecchia parecchio, rispiecchia parecchio, brutto, rispiecchia tantissimo diversi studi, ok? Diversi studi che trattano il mindset complottista, diciamo, perché c'è un problema con l'accettazione della realtà, va bene? C'è un problema con l'accettazione della realtà e quindi quando ti trovi davanti il fact checker, il debunker, quello che ti dice come stanno le cose, tra virgolette, no? è un fastidio, evidentemente, e provoca reazioni nervose, personali, cioè questi sono attacchi personali, no? Almeno qualcuno cerca di argomentare, cerca a modo suo, essendo abituati a Mazzucco, argomentano di merda, ma qui siamo veramente sul personale, ci sono i bodi scemi in pratica questi, ok? Almeno questo commento è interessante perché riflette questo, cioè riflette quel che effettivamente è emerso negli studi sul mindset complottista, qualche episodio che ci porta a rifiutare la realtà ci rende più esposti ai guru del complotto, ai finti maghi, ai finti curatori, no? Quando è che fanno breccia i curatori, no? Quelli che ti dicono di avere la soluzione al tuo tumore, quando appunto c'è il tumore, per esempio, no? Quando sei in una situazione di fragilità che ti porta a essere in conflitto col mondo, magari stai elaborando un lutto, lì fanno presa questi personaggi qua. Che ne penso di Santoro? Santoro ti fa venire il dubbio che magari su Berlusconi ci sono andati veramente pesanti, ti fa venire voglia di andare a riesaminare tutta la storia dell'inizio della seconda repubblica per vedere dove hanno sparato cazzate su Berlusconi a sto punto perché dopo le ultime sparate sulla guerra in Ucraina veramente c'è da mettersi le mani in testa a cazzo. questo comparirà al lato quindi mi devo farmi venire delle distorsioni muscolari per leggere. Allora, mi abbasso per leggere perché ah ok qua siamo tra amici non so se è qua presente Mastro di GDR veramente Mazzucco non ha demolito nulla in risposta credo a quello di prima dell'inizio che stava dicendo che aveva demolito attivissimo infatti avrei dovuto leggerlo non so perché è finito al sesto posto non so comunque non ha demolito nulla si è limitato a sparare cavolate e ad attaccare la persona senza portare neanche una prova tipico come d'altronde fa in ogni suo video un milione di affermazioni e zero prove che superino anche le più banali delle verifiche perfettamente d'accordo Gioanne io ti posso pure voler bene no no ma che ti si incula cioè ma anche no ma ste reaction perché lui è esperto di reaction le fai male perché le faccio male non stoppare ogni 10 secondi se va bene il video di mazzucco a cui reagivano ogni 10 secondi io lo stoppavo però non è colpa mia se mazzucco spara una cazzata ogni 10 secondi se va bene capito a me io lo so che tu volevi sentire il tuo guru ma te lo ascolti a parte nel suo canale integrale cioè non vieni a scassare le palle a me capito io nella mia reaction non faccio il cazzo che mi pare non portare come smentita cose a cui mazzucco ha già risposto si ha già risposto si per me la cipolla ok per me la cipolla vaffanculo che abbiamo qua allora fabio allora ok allora io qua nel video sempre in risposta a mazzucco lui dice che il capo dell'agenzia spaziale russa ha detto che sono finti gli allunaggi ok con uno storico ritardo di decenni l'agenzia spaziale russa roscosmos o come cazzo si chiama ha dato questa rivelazione io l'ho chiamata l'agenzia russa del cazzo credo ok e lui fabio che è top fact checker è andato su wikipedia e questo è il commento ha fatto un compie e colla di wikipedia e ha visto che questa agenzia non si chiama agenzia spaziale del cazzo ok ma ha un nome ben preciso la cui sigla poi diventa roscosmos questo ha fatto ho visto che qualcuno gli ha anche risposto non so cioè io veramente non mi capacito che cazzo di commento è ma che cazzo di commento è cioè questo è il re delle feste proprio si ha copiato anche i link delle citazioni si ha preso da wikipedia pam pam capito ah ma hai debancato perché non si chiama agenzia del cazzo cioè ma che cazzo ma che cazzo cosa cazzo mi scrivete veramente cioè sì molti access spazio bicchiere smoothie benvenuto nei poteri forti o benvenuta sì ma se leggi bene le parti in russo danno ragione a lui sì sì no assolutamente mi arrendo cazzo top esiste c'è la pagina wikipedia difesa chubecca ok perché ok ok c'è rena renato un nome normalissimo lo stavo renato allora lui non mi ricordo dove ma lui mi dice perché tu ti definisci un giornalista ok c'è renato non lo so io me lo immagino renato è un boomer che pascolava su facebook finisce in un gruppo dove stava seguendo una tipa a cui stava facendo il filo e per fare il figo entra in una condivisione a caso e trova sto stronzo qua e la prima cosa che mi scrive è ma perché tu ti definisci un giornalista ma non è che mi definisco giornalista cioè mi definiscono i cento cazzo di euro all'anno che devo versare per rinnovare il tesserino dell'ordine questo mi definisce giornalista giornalista dell'ordine dei giornalisti della sardegna elenco pubblicisti mi trovi col mio nome originale all'anagrafe Giovanni Giovanni Pili mi trovi non è che mi definisco mi definisce lo stato italiano perché si deve ridurre tutto a fan che io parlavo mi rivolgo rispondendo ai commenti ai fan di mazzucco mauro san che credo sia in chat anche adesso giustamente gli ha risposto non è questione di essere o non essere d'accordo la realtà è un'opinione ok non è un'opinione ok lui dice perché ridurre tutto a fan perché sono proprio i fan di mazzucco quelli nessuno è fan se ha un po' di senso critico usa la ragione ti piacerebbe no in realtà non è quello il punto cioè non state usando il senso critico e la ragione tutto si riduce a essere fan che poi fanno attacchi ad omilem perché non hanno argomenti perché gli hai toccato il loro guru e quello è il punto sennò quelli neanche si accorgevano del mio video ok chiaro si sono triggerati perché c'è scritto mazzucco nel titolo e arrivano e portano visualizzazioni pure cos'è questo? è fanboismo ti piacerebbe senso critico senso critico un paio di palle ti segue una persona quando ci si trova spesso d'accordo sui ragionamenti e i commenti che fa però appunto Mauro dice non è questione di essere d'accordo la realtà non è un'opinione ok tu puoi anche non essere fan di Burioni e starvi sul cazzo però quel che dice Burioni comunque puoi riconoscere che è corretto ok guardami mamma assunitivo Mauro San ok ma a prescindere se io tocco Mazzucco che abbia ragione o no non c'entra niente Mazzucco ti dà un sasso da lanciare contro una realtà che non ti piace altro che senso critico altro che la ragione mi rendo conto che mi sono imbattuto in un canale tutt'altro che serio a proposito di senso critico c'è un canale di fact checking mio dio mio dio non è un canale serio non credo che Mazzucco perda il suo tempo a dibattere con i ragazzini e qua ti ringrazio cazzo c'ho 41 anni suonati questo ne avrà 40 per gamba se mi scrive così comunque uno sti cazzi ce lo vogliamo ammettere io sicuramente non ci dibatterò mai con persone così quindi figurati cosa me ne sbatte a me c'è anche questo errore non è che io sono contrapposto a Mazzucco io sono offro dei servizi per le testate e per i social network con facebook con meta per esempio oh qua abbiamo Maurizio Herrera non so se è qua comunque è un amico ma poi pure fosse che non ci siamo mai andati e che la terra è piatta i nazisti non siano mai esistiti chi se ne frega la mattina comunque penso a come pagare il condominio altissimo e il mio risveglio sulla verità del mondo non cambia questa verità ineluttabile che se non pago 200 euro al mese mi sequestrano la proprietà e l'enimo mi stacca luce a gas capito cioè prima di tutto quello che conta è restare connessi con la realtà e non farci a botte con la realtà questa è la cosa fondamentale cazzo poi se volete passare a rompermi i coglioni con sti commenti a me va benissimo ci faccio content va bene va bene ma che vi devo dire cazzo ma va benissimo così portatemi visualizzazioni un sardo che dice offro servizi per le testate è vero è vero